Buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto a questo incontro dedicato all'analisi pushover. Apriamo il programma 3 muri con il modello già aperto, apriamo brevemente il 3D, attendiamo un attimino, ok, questo è già il 3D mesciato, sicuramente più utile vedere nell'ambiente struttura, lo vediamo qua che è quello poi dell'immagine che abbiamo visto poc'anzi, lo metto pieno schermo, ci giro un attimo attorno, anche qui avevamo terreno a quota differente, qui avevamo una parte parzialmente interrata, qui avevamo queste colonne che appoggiavano, è una struttura comunque direi abbastanza irregolare, sia in pianta che in elevazione, vediamo il 3D, poi se vogliamo gestiamo, in modo più o meno marcato, la trasparenza dei solai, per vedere all'interno la struttura, faccio un'idea di come viene realizzata, quindi abbiamo anche delle murature in falso, che poi sono sostenute delle travi ai piani bassi, adesso che abbiamo capito di che edificio si tratta, andiamo a, e vediamo anche qui, guardiamo le finestre, adesso concentriamo l'attenzione ad esempio su queste finestre, nella parte bassa, vi faccio esaminare queste finestre, queste aperture, perché voglio poi concentrarci l'attenzione in termini di interpretazione di risultati, andiamo a vedere i risultanti, il modello chiaramente è già stato calcolato per ridurre al minimo, per così dire, i tempi d'attesa, vado ad esaminare, ricordo che questa tabella riporta tutte e 24 le analisi che sono di interesse, quindi le 24 combinazioni che tengono conto della direzione, x piuttosto che y, verso più o meno x o y, distribuzione carica proporzionale alla massa del primo modo, senza eccentricità, con eccentricità accidentale tra centro di massa e centro di rigidezza, 24 combinazioni che sono 24 analisi push-over che producono 24 indici di vulnerabilità per lo stato di limite ultimo, di vita chiedo scusa, e 24 per lo stato di limite di danno, vengono evidenziate in giallo le due righe corrispondenti agli indici di vulnerabilità più bassi rispettivamente per le due direzioni, quindi x piuttosto che y, ricordiamo che poi a livello significativo di relazione è poi rappresentativo il più basso dei due, chiaramente per completezza di una relazione di solito vengono riportate, comunque in ogni caso entrambe le analisi per vedere appunto il comportamento distinto nelle due direzioni, andiamo a vedere l'analisi 12 ad esempio in direzione x, visualizziamo i dettagli e questi sono i risultati, tra l'altro magari per chi è nostro utente da più tempo, magari noterà anche che questa visualizzazione è un po' cambiata da quella che era la visualizzazione storica, abbiamo rivoluzionato l'ambiente dei risultati con lo scopo di renderlo un po' più performante le necessità del progettista e più interattivo si può interagire maggiormente con gli ambienti grafici rispetto a un tempo, quindi andare a zoomare, a fare tutte le operazioni CAD sia nei prospetti che nelle piante. La novità che salta principalmente all'occhio, che noi eravamo abituati ad avere qui in alto, la tabella dove si vede uno spostamento e sollecitazione e quant'altro, sono sempre presenti, basta richiamare rimpiazzando la tabella dell'analisi con le interrogazioni dei risultati. Nel caso in esame però il programma entra in default con il riassunto della tabella che abbiamo visto prima, quindi quella con le 24 righe, riportando però solo i valori sintetici, quindi la descrizione dell'analisi e l'indice di vulnerabilità per farli saltare immediatamente all'occhio e riporta già evidenziata l'analisi che di là ho richiamato. Una visualizzazione di questo tipo ha il grande vantaggio che per fare un controllo più completo e veloce del modello non è più necessario uscire e rientrare nei risultati ma con un semplice clic ad esempio possiamo passare dalla 12 alla 9, quindi cliccando si vede la push over della 9 la 7, vado a cliccare e vedo la push over della 7, ritorno sulla 12 con un clic e vedo la push over della 12 e le corrispondenti mappe del danno e quant'altro. Chiaramente poi troviamo tutte le cose, non è stata una rivoluzione totale perché chiaramente abbiamo molte funzioni ma le cose a cui i nostri utenti sono affezionati chiaramente le abbiamo tenute, sono comunque comode, abbiamo tentato di introdurre cose nuove chiaramente. Qui abbiamo sempre quello che già conosciamo bene che sono i nostri fattori di scale della deformazione da prospetto della pianta, il solito pulsante di play di autorun che va a mostrare la deformazione sia in pianta che nel prospetto, quindi vediamo qua la deformazione da parete 12 che si sta danneggiando, la solita leggenda di colori che ci ricorda ad esempio verde intero, giallo tenue plastico per taglio, giallo più scuro rotto per taglio, rosso tenue plastico per presso flessione, rosso scuro rotto per presso flessione. Quindi qui vediamo un bel po' di elementi plastici ma ad esempio non vediamo alcun elemento rotto. Una cosa che è sicuramente molto interessante è cercare di andare a capire come mai questa analisi che attraverso l'indice di vulnerabilità che vediamo qua o nella tabella informativa di cui abbiamo già parlato in precedenza, vediamo verifica non superata a stato limiti di vita in quanto si ha ad esempio un indice di vulnerabilità inferiore all'unità vediamo 0,7 quindi abbiamo già capito che questa analisi non è correttamente superata e dobbiamo cercare di capire a che cosa è dovuta la mancata verifica quindi che cosa possiamo fare? Possiamo sicuramente andare a interrogare la curva pushover quindi chiediamo al programma di individuare ad esempio attraverso questa tabella la percentuale di elementi rotti per ogni parete la tabella ha già un proordinamento dalla più alta percentuale di rottura alla più bassa quindi vediamo che abbiamo due pareti in cui si ha una buona quantità di rotture che la 3 piuttosto che la 22 quindi la 3 la selezioniamo, la carichiamo e viene mostrata nel prospetto qui abbiamo rotture per taglio dei maschi più grandi, rotture per pressofessione dei due maschi più piccoli che si sono creati qui all'interno quindi qui emerge già tutta una serie di osservazioni la prima osservazione che vediamo dei maschi molto piccoli che erano in sostanza delle piccole colonne che separavano una finestra più ampia questo modello era stato realizzato dal nostro cliente in questo modo modellando questo dettaglio appunto della nostra apertura in realtà è un dettaglio poco significativo perché avremmo dei maschi molto piccoli, erano 30-40 cm questi rossi che chiaramente snelli e alti vanno in crisi molto presto si prendono anche una quota di carico che magari non era lecito darla perché avranno una potenzialità di sostenere l'edificio estremamente limitata e c'è il rischio che si rompano, magari si instabilizzino anche fuori dal piano che abbiano delle rotture un po' più, come dire, imprevedibili quindi vista la loro, come dire, grande snellezza riterò anche magari ragionevole che un oggettista in questo caso possa decidere di omettere la presenza di questi elementi e andandoli a non mettere all'interno del modello trascurandone la presenza quindi facendo un'unica grande apertura più ampia omettendo questi elementi, poteva essere ad esempio una scelta ricordiamo ad esempio questa parete qua con questo danno viene localizzata e viene evidenzata il cassetto nella pianta qui zoomiamo, vediamo la parte in cassetto questa parte qua tant'è vero per come era fatta la struttura vediamo anche un leggero, qui c'è un fattore di scala deformativa non indifferente è torsionale attorno a un centro di rotazione che si trova all'incirca in questo punto quindi è anche intuibile che con un centro di rotazione in questo punto questa parete è più soggetta a deformazioni e vediamo di conseguenza il livello di danneggiamento degli elementi in questo punto quindi questi controlli visivi che sto facendo nascono con lo scopo di andare a esaminare esattamente i criteri di rottura andare a capire meglio i criteri di intervento come intervenire, dove intervenire con lo scopo di risparmiare poi cioè di fare un intervento più localizzato quindi più economico possibile per il nostro committente quindi andiamo a vedere la rottura vediamo rotti questi elementi l'altra parete su cui richiamava l'attenzione era la 22 vediamo qual è questa qua in cui si rompe per taglio questo maschio centrale dove si trova, lo vediamo anche qua in cassetto in questa porzione della nostra pianta dell'edificio quindi tutti elementi su cui intervenire un'altra cosa che molto spesso è utile nella scelta quindi sto isolando degli elementi questo maschio è un potenziale elemento su cui intervenire tornando nella parete 3 questi sono tutti i potenziali elementi in cui decidere di andare a intervenire un'altra cosa che sicuramente è indubbiamente molto interessante e il concetto di andare a individuare essenzialmente il tipo di strutture che vanno in crisi e perché vanno in crisi quindi andiamo a vedere ad esempio che la cuo push over è tutto sommato elegante, uniforme da questo punto in poi invece si ha una perdita di resistenza a un certo punto quindi possiamo posizionarci a un certo punto e vediamo ad esempio che già visivamente è stata all'occhio che la rottura nell'ultimo passo riguarderebbe solo questo elemento quindi anche interrogando potevo dire richiedere al programma differenze rispetto al passo precedente e trovo che in entrambe le pareti che abbiamo visionato sia nella 22 che questa qua che nella 3 si ha una rottura nell'ultimo passo infatti vediamo il cambio di colore quindi quelle che hanno causato lo stop dell'analisi la prima osservazione che mi viene in mente è quella di dire ma se è così magari potrei limitare l'intervento a questi due soli maschi senza intervenire su tutto magari riduco ancora ulteriormente i costi è una cosa che potrei fare potrebbe avere anche un senso qui nel dubbio mi metto nell'ultimissimo quindi quando la struttura questi elementi non sono ancora in crisi e chiedo ancora al programma differenza rispetto al passo precedente mi dice che abbiamo ancora delle rotture create subito prima le vado a ricercare perché equivalgono proprio alla perdita di resistenza di questo tratto andandole a cercare vuol dire che io torno indietro di un passo e trovo che nel passo subito prima si romperono i due maschi più grandi e quelli più piccoli al lato quindi questa perdita di resistenza importante, marcata è dovuta alla rotta di questi elementi importanti quindi verrebbe da dire sì, miglioro questo ma probabilmente non basta devo migliorare anche questi elementi quindi fare degli interventi locali sulla struttura di questo tipo la struttura di questo tipo è anche della deformazione tutto sommato rotazionale uniforme mette già in luce che comunque è una struttura che in parte aveva dei sunai nell'attrocemento in parte aveva delle strutture voltate con già un getto di completamento quindi comunque la deformata in pianta non ne veniva influenzata però in ogni caso la grande irregolarità di questa struttura dava questo tipo di ripercussioni quindi il ragionamento che stiamo facendo per una struttura solaio tutto sommato abbastanza rigido si può fare anche per una struttura di solaio d'altro tipo vediamo anche che è cordolata quindi ci sono dei cordoli vediamo che ad esempio in alcuni casi vanno anche in crisi quindi si vede anche punto debole appunto legato al concetto del cordolo quando ho capito che voglio intervenire su questi elementi l'approccio classico del progettista è quello di andare in un prospetto decidere di intervenire su questi elementi quindi di fare ad esempio un intervento su uno, due, tre maschi murari magari anche sull'altro e di andare a creare una coppia facciamo una coppia della muratura esistente e andarla a migliorare facendo ad esempio delle iniezioni di miscello eleganti con questa operazione poi si va ad applicare la coppia creata quella rinforzata esclusivamente a questi elementi a questo punto rifacendo il calcolo si vede il miglioramento della struttura in esame tant'è vero io qui chiaramente per non rifare tutto quanto il calcolo ho già il medesimo modello già calcolato con questo tipo di intervento andiamo ad aprire andiamo a vedere sempre l'analisi 12 l'analisi 12 continuerà a non essere verificata ma da uno 0,70 a 71 che eravamo prima siamo già quasi a uno 0,76 quindi c'è stato un miglioramento chiaro questa è una struttura che portarla in termini di adeguamento servivano degli interventi importanti non era richiesto l'adeguamento ma un semplice miglioramento quindi già questi sono degli interventi che dimostrano che il miglioramento è avvenuto quindi da quel punto di vista potremmo già ritenerci soddisfatti poi a me interessava in questa sede esaminare la procedura l'approccio delle scelte che deve avere il progettista al fine di poter individuare i punti deboli e andare a intervenire quindi guardare la mappa dei colori guardare i perditi di resistenza della curva che tra l'altro con queste scelte vediamo non ci sono più sulla curva quindi la curva è più uniforme non ho più cadute di resistenza se non quando raggiungo lo spostamento limite ultimo quindi in ogni caso non si presentano più questo tipo di meccaniche di rottura che ne vanno a influenzare malamente la curva e dovrò andare a vedere altri tipi di danneggiamento sulla struttura però essenzialmente ci dà l'indicazione che l'approccio ottimo è guardare le deformazioni guardare il danno sulla nostra struttura quindi andare alla ricerca del tipo di danno del taglio pressofessione dove avvengono su quanti elementi influenzano magari farci aiutare dalla forma della curva del decadimento o quant'altro per riuscire a individuare meglio il danneggiamento della struttura tant'è vero che ad esempio prendiamo la famosa parete 3 che anche se la cerchiamo sulla pianta e si trova in corrispondenza di questo punto andiamo a cliccare ecco ad esempio questa è una delle funzioni nuove di questa versione cioè posso andare nella pianta e cliccare sulle varie pareti direttamente sulla pianta le pareti vengono caricate nel prospetto posizionarci un qualsiasi passo intermedio anche qui possiamo ora cliccare direttamente sulla gamma per andare a vedere lo stato di danneggiamento e di deformazione sul prospetto che ho scelto della pianta ad esempio spostandoci nell'ultimo passo andare a vedere le rotture l'ultimissima rottura riguarderà di nuovo tutti questi elementi alla base non li ho rinforzati a sufficienza però rispetto a prima vedo già che si rompono tutti insieme e si rompono dopo rispetto a prima quindi già una parte del nostro obiettivo è stato raggiunto cliccando sulla curva è molto più semplice perché riesco esattamente a richiedere un punto di cui vorrei sapere maggiore informazioni tra l'altro anche qua vengono riportati i valori più precisi di spostamento per ogni passo posso sempre usare le frecce in basso per andare a interrogare un singolo passo della curva posso anche usare la finestra proprietà che si attiva sulla destra in cui vengono riportate le coordinate la tabella delle coordinate cliccando su una riga faccio spostare la visualizzazione a quel passo corrispondente e a quella corrispondente mappa del danno quindi un'interpretazione decisamente più curata del modello che andiamo a esaminare nella nostra struttura quindi abbiamo visto per questa struttura tutta la fase che è l'interpretazione dei risultati la perdita di resistenza e la scelta degli elementi su cui andare a intervenire passiamo a un altro edificio qui prima abbiamo visto un intervento in cui il progettista magari sceglie di fare delle iniezioni di malta con lo scopo di migliorare la muratura qui si propone un altro tipo di intervento che sono l'inserimento di fibro rinforzati qui vediamo un edificio l'intervento adottato per questo edificio è stata la scelta di fare interventi con fibre su un'intera struttura quindi un intervento decisamente impegnativo sia a livello pratico che economico diciamo per così dire le fibre però avevano uno scopo mirato di rinforzare prevalentemente i maschi cioè non andavano a costituire armature sulle fasce quindi sui sopra e sotto finestra ma interessavano prevalentemente i maschi della nostra struttura senza rinforzo abbiamo un indice di vulnerabilità di 0,72 con il rinforzo totale siamo arrivati a 1,12 quindi dal non verificato al verificato andiamo avanti nella presentazione vediamo qui uno straccio della tabella con la percentuale di rottura degli elementi la mappa ad esempio di una parete importante della nostra struttura prima del rinforzo dopo il rinforzo la cosa interessante è che siccome chiaramente il rinforzo agisce sui maschi murari prevalentemente sui maschi murari la rottura non è che viene eliminata ma viene spostata perché rinforzando questi elementi la rottura viene spostata su delle fasce infatti vediamo queste fasce che sono andate in crisi quindi in questo caso prima del rinforzo avevamo una rottura solo a piano basso due rotture di due elementi e dopo il rinforzo abbiamo la rottura di più nessun maschio ma di praticamente quasi tutte le fasce della nostra struttura quindi abbiamo spostato la rottura ad un altro punto che in questo caso data magari l'importanza di uno o più maschi non può che dare un beneficio perché hanno maschi sicuramente molto importanti e l'intervento invasivo in questo caso su tutti gli elementi ha fatto sì che il primo elemento che riusciva a trovare libero per potersi rompere erano essenzialmente le fasce della struttura un'altra parete che è stata esaminata è ad esempio questa qua in cui senza rinforzo avevamo una rottura del 100% questa è rotta per taglio dopo il rinforzo la rottura non c'era le due pareti queste pareti qua si trovano nella sua panimetria in questa posizione in quest'altro caso si trovano su quest'altro lato più piccolo nella parte posteriore quindi da una rottura totale ad avere i maschi murari praticamente totalmente salvi quello che si vede da un punto di vista pratico all'interno della progettazione è che guardando la pushover questo dopo il rinforzo questo prima del rinforzo è stato messo un indicatore è stata scattata la foto in termini di spostamento cioè è stato letto lo spostamento prima dell'intervento è stato messo un indicatore e mostrato il diagramma esattamente nello stesso punto la prima cosa che mi interessava al di là del diagramma che attira sicuramente l'attenzione in quanto sia un cambio di danno e di comportamento delle rotture degli elementi da uno stato piuttosto che all'altro sicuramente la cosa che mi interessava particolarmente è la forma della curva che tranne un fattore di scala per l'asse delle x che chiaramente c'è un po' di distorsione abbiamo tutta una storia di spostamento utile che è questo tratto finale in più rispetto all'edificio senza intervento tant'è vero che questa è l'offerta di spostamento della struttura non si percepiva nemmeno la linea verticale della domanda invece questa è la domanda e questa è l'offerta in quest'altro caso quindi siamo passati da edificio non verificato a edificio verificato poi in generale per così dire come intervento non è che io voglia consigliare anzi ben distante dalle mie intenzioni di consigliare un intervento per così dire invasivo su tutta quanta la struttura io consiglio sempre di fare un intervento mirato anche perché magari farlo così invasivo ha portato a intervenire su elementi che non avevano assolutamente bisogno elementi che non ce n'era la necessità o magari hanno addirittura rallentato la fase di miglioramento perché magari rinforzare un elemento che è già rigido in certi punti può creare un centro di rotazione attorno a quel punto per cui va a deformarsi molto altre pareti che sono più deformabili di conseguenza causando delle rotture anticipate quindi in realtà bisognerebbe arrivarci a passi a queste soluzioni questa è stata fatta estrema questa vorrebbe proprio essere una soluzione nell'esame del comportamento tra un edificio senza rinforzo e con il rinforzo anche perché essenzialmente il miglioramento non è tanto quanto poi la struttura aumenta in termini di rigidezza perché la rottura poi non è in termini di rigidezza tanto è vero che questa struttura è plastica quanto questa forza addirittura di più nello stesso passo il discorso è un altro che ricordiamoci che in termini normativi la differenza sostanziale tra questi due approcci che questa si intende una muratura armata perché le fibre essenzialmente sono una muratura armata le murature armate rispetto alle murature ordinarie da un punto di vista normativo hanno una capacità d'utile maggiore per la norma quindi già la capacità d'utile di spostamento ultimo è più alta rispetto alla muratura ordinaria a prescindere di conseguenza già lì immagine di duttilità che insita nel legame descritto nella normativa si vede si ripercuote direttamente sulla curva cusciola che vediamo qua quasi terminato solo più un ultimo concetto che è il concetto delle strutture miste le fibre l'hanno introdotto nel rendere misto ma soprattutto vorrei parlare di quel cemento armato dove sale la percentuale cemento armato diminuisce la percentuale della muratura sulla struttura normativamente non esiste una chiara prescrizione per individuare approcci di calcolo differenti per una struttura piuttosto che l'altra predominante la normativa chiarifica in modo abbastanza univoco che le prescrizioni di verifica questo tipo di analisi devono seguire quello dell'elemento strutturale predominante quindi se c'è più muratura a livello comportamentale è giusto usare altre mure e fare un'analisi di pushover per le murature se c'è tanto cemento armato magari un software come il nostro Axis VM per cemento armato potrebbe essere più idoneo uno pushover per cemento armato o l'analisi comunque per cemento armato in quanto è quello predominante il problema è che la normativa non dà un chiaro soli di confine quando è predominante uno quando è predominante l'altro molto spesso addirittura il paradosso è che ci rendiamo solo conto quanto è predominante uno rispetto all'altro dopo ve l'ho calcolato cioè quando ho fatto un calcolo pushover di un edificio in muratura con molto cemento armato mi rendo conto che sta lavorando prevalentemente il cemento armato e la muratura è quasi totalmente integra per fortuna ad esempio il tre muri proprio per sopperire a questa tra virgolette carenza normativa ha implementato all'interno delle scelte di interrogazione di modellazione di interpretazione del risultato un po' più evolute ad esempio se noi guardiamo questa è una curva pushover di un edificio misto muratura e cemento armato la cosa particolare è che la curva è uniforme elegante fino a questo punto poi un improvviso salto e poi in una ripresa uniforme con questo spostamento ultimo questo spostamento ultimo è all'incirca quasi il doppio dello spostamento ultimo in quest'altro punto la conseguenza da questa osservazione qual è? che passiamo dal doppio a metà esaminare un punto nell'altro quando andiamo a vedere con gli stessi strumenti che abbiamo visto andiamo a interrogare questo punto preciso che cosa succede in questo punto ma guardando le deformate ci rendiamo conto che in realtà si ha che fino a questo punto sta lavorando quasi essenzialmente il cemento armato la muratura non ha ancora funzionato quindi noi cosa facciamo? in alcuni casi vediamo se la perdita di resistenza scende sotto quel famoso 20% di cui parla la normativa se di lì in poi si ha una ripresa è perché magari si è rotta tutto il cemento armato per cui non ha senso quel controllo del 20% e quindi noi continuiamo a monitorare la curva e vedere se si ha un effettivo ripreso per poi avere una rottura posteriore perché qui può aver lavorato il cemento armato e sto facendo la pushover per prescrizione per la muratura su una struttura in cemento armato quindi devo lasciare che ci sia una caduta per esaminarne poi la ripresa questo è il concetto che volevo portare all'attenzione diciamo che purtroppo questi questi concetti accettano sempre tutta una serie di ripercussioni e osservazioni differenti e da dire ce ne sarebbe tanto come al solito poi mi sono fatto prendere dal discorso dal parlare a contatto però essenzialmente con questo direi che ho concluso essenzialmente la mia presentazione vi ringrazio per l'attenzione arrivederci buona serata al prossimo incontro grazie a tutti Grazie a tutti